ci siamo trovati in perfetta sintomi a con il mondo icara perché essendo la persona ormai al centro di quelli che sono i cambiamenti della digital transformation abbiamo potuto coniugare insieme proprio degli approcci people centric con la tecnologia a supporto di tecnologia ce n'è in sovrabbondanza dobbiamo saperla governare ecco perché Altia Federation ha proprio al suo interno delle aziende specializzate in questo che governano il cambiamento dei modelli organizzativi con le persone al centro e la tecnologia abilitante è attraverso il personale dell'amministrazione delle persone la gestione delle persone che si può arrivare a un vero cambiamento tant'è vero che oggi per esempio tutta la parte di digitalizzazione che aiuta e favorisce questi cambiamenti passa dall'ufficio HR hanno chiamato questo periodo il nuovo umanesimo cioè la necessità di rimettere la persona al centro di tutti i processi organizzativi perché altrimenti non si può ottenere un cambiamento in tempi rapidi incontrarsi parlare parlo anche in un momento di scambio che possa essere quello del pranzo della cena o dell'aperitivo ti aiuta a stringere un legame con una persona che magari non vedi più per un anno intero ma se l'anno prossimo ci rincontreremo allo stesso evento forse ci ricorderemo l'uno dell'altro sono convinta che sono le persone che fanno l'azienda quindi questo sia dal punto di vista più commerciale forse noi consideriamo i nostri dipendenti i primi ambasciatori della marca quindi sono i primi a dover essere ingaggiati sul prodotto e sulla credibilità del prodotto poi crediamo nelle persone dal punto di vista umano quindi sul loro benessere sul loro star bene in azienda che porta assolutamente a un aumento della produttività dell'ingaggio dell'impegno e della soddisfazione di ognuno di loro a presto